Un saluto ai nostri telespettatori. Oggi 25 aprile, non potevamo dedicare una trasmissione al 25 aprile e quindi con noi ci sono due amici che credo che rappresentano questa data in una situazione culturale, politica e sociale ogni giorno della loro vita. Io li ringrazio per questa presenza che è sicuramente importante per segnare un po' il passo della storia ma soprattutto per analizzare l'attualità, per analizzare quello che ci sta succedendo oggi. Franco Novelli e Filippo Poleggi. Franco Novelli impegnato da tanto tempo con Libera contro le mafia, è referente regionale dell'associazione e credo che sia inutile probabilmente sottolineare altre dimensioni di impegno. Franco è stato un valente insegnante, continua in un'opera probabilmente importante dal punto di vista culturale impegnandosi con l'Università della Terza Età. E quindi una serie di percorsi che gli fanno onore rispetto all'impegno quotidiano. L'altro amico Filippo Poleggi, che dire di Filippo, tanti sono anche i percorsi che lo vedono impegnato, la Lega delle Autonomie Locali, un punto di riferimento importante per quanto riguarda le istituzioni, ma un punto di riferimento del socialismo molisano, bisogna anche stabilirlo, in una sorta di percorso di coerenza, comunque sempre molto forte e molto importante, che oggi diventa una sorta di medaglia d'onore, visto e considerato i trasformismi, i passaggi dall'uno all'altro schieramento con una tranquillità e senza alcun pudore. L'impegno sulla difesa dei trasporti, quindi sono anche lì tanti i percorsi che lo vedono impegnato. E allora insomma con voi, siamo amici da tanto tempo, sappiamo perfettamente quali sono stati i passi realizzati in virtù per mantenere forte la democrazia nel nostro paese. Io ne vorrei parlare con voi oggi che la democrazia è messa quotidianamente in pericolo. E quindi come dire, fare un riferimento a quelli che erano gli ideali, che sono stati gli ideali che poi hanno portato alla liberazione, ma anche e soprattutto a quelli che sono gli ideali che hanno attraversato un po' il dopo e quelli attuali, dove probabilmente ancora c'è bisogno di mantenere alto il livello di guardia di nuovo alla difesa della democrazia. Allora per voi, che cosa è il significato? Iniziamo da questo, il significato del 25 aprile. Franco. Buonasera a tutti, buonasera alle telespettatrici e delle spettature, grazie a TLT per la cortesia della trasmissione alla quale hanno invitato sia me che l'amico Filippo, con il quale ci conosciamo da una vita, per alcune grandi battaglie comuni e per l'insieme di quelle cose di cui tu, Peppe, parlavi accennando nell'incipit dalla trasmissione. Cosa rappresenta il 25 aprile? Oggi, il 25 aprile, cos'è per noi ancora? Per noi il 25 aprile, almeno parlo per me e per quanti magari possono condividere anche questo mio punto di vista, che non è personale, ma appartiene a una serie di gruppi associativi, anche di cittadini, associazioni culturali, associazioni politiche, associazioni di volontariato, il 25 aprile rappresenta una tappa fondamentale, da un punto di vista storico, perché il 25 aprile del 1943, 45 chiedo scusa, che cos'è successo? È successo praticamente che a conclusione della resistenza, l'Italia centro-nord, con particolare Milano, sono stati liberati grazie alla guerra, al conflitto armato, che gruppi consistenti di cittadini, organizzati in partiti o anche individualmente, partecipando a queste azioni armate, hanno liberato l'Italia dal nazifascismo. Quindi il 25 aprile del 1945 rappresenta in buona sostanza non un conflitto come oggi si vuole far passare tra fascisti e comunisti, ma tra il nazifascismo, che ha portato l'Italia a una decable terribile, sia sul versante della perdita di vite umane, sia sulla crisi complessiva che l'Italia ha passato e ha vissuto durante e appena dopo la guerra, una crisi di valore, una crisi economica, una crisi di status anche civile e sociale, che ovviamente ha avuto il suo peso. Quindi da un lato noi vediamo la conclusione di un conflitto, ma dall'altra il 25 aprile rappresenta anche per noi un punto di concentramento di valori che sono ancora validi oggi per noi. Quali sono questi valori? Sono gli stessi valori che hanno spinto i nostri padri e tanti nostri maestri e tanti cittadini e cittadini a combattere il nazifascismo. Vale a dire un conflitto che non vede soltanto l'aspro confronto tra le avanguardie che allora potevano rappresentare, rappresentate nel CNL, ma rappresentava un conflitto tra una intera popolazione, la classe operaia, i contadini, i cittadini, le donne, che prese da un efflato squisitamente civile, si sono resi conto che a quel punto del conflitto tra il 42 e il 43 e appena dopo l'armistizio, con il cambio delle alleanze con i teteschi che diventano all'improvviso occupanti del nostro territorio nazionale, si sono resi conto che la battaglia contro il nazismo e contro il fascismo collaborizionista con Hitler era assolutamente essenziale. Questo dal punto di vista storico. Dal punto di vista culturale e politico cosa ci insegna il 25 di aprile? Ci insegna che la battaglia sul fascismo, la battaglia sulla perdita della democrazia è una battaglia continua perché oggi, e lo vedremo fra poco, oggi soprattutto a fronte di un aggressivo confronto, di un aggressivo conflitto che la finanza internazionale ha proposto nei confronti degli stati, nei confronti delle democrazie, noi avvertiamo che il pericolo di perdere la democrazia e la libertà è proprio dietro alla porta, è un pericolo reale come la liberalizzazione dei commerci, soprattutto la mondializzazione dei commerci e soprattutto la cosiddetta teoria della scuola neoliberista sta dimostrando. C'è un gruppo di soggetti apparentemente acefali, ma che sappiamo, banche e gruppi finanziari, che intendono praticamente abbattere la costruzione democratica avvenuta in Occidente all'indomani del conflitto mondiale, secondo conflitto mondiale, costruzione che si è basata quasi esclusivamente su un confronto fertilissimo tra cattolici, liberali, comunisti e socialisti. Quindi c'è stata una mediazione bellissima che ha partorito nella nostra nazione la Carta Costituzionale. Ma su questo torneremo fra poco. La dimensione del 25 aprile che cosa rappresenta e quali sono poi i percorsi assolutamente da recuperare, secondo il mio modo di vedere? Beh, io condivido l'analisi che ha fatto Franco. Rappresenta appunto questo, rappresenta la presa di coscienza del popolo italiano della necessità di riconquistare la democrazia per una convivenza civile tra i cittadini. E' un'assunzione di responsabilità soprattutto, che è, come dire, un'esigenza fondamentale, ieri come oggi, non fuggire dalle situazioni, non trovare giustificazioni, ecco, di fronte al problema decidere, conoscere e decidere. Questo credo che sia stato il processo che ha portato al 25 aprile, che non è stato, come si tenta ancora una volta, questo è un motivo ricorrente, uno scontro ideologico tra due fronti contrapposti. Non è stato, sarà stato anche questo, cioè sarà stato anche questo elemento, sicuramente, tra le motivazioni, tra i sentimenti che hanno portato le persone, ma è stato come da molti anni ci stiamo sforzando di affermare riscoprendo i fatti, non sforzando in maniera generica, ma riscoprendo i fatti con l'azione che anche nel Moise si sta facendo attraverso ampi, preziosa, di rindracciare queste testimonianze umane, queste presenze, che sono più di quanto noi pensassimo, perché c'è stato, come dire, un periodo in cui si è affermato, dice, ma sì, in Ponte Moise è stato estraneo, insomma, a queste cose, perché sono passati gli alleati, quindi non si è verificato, e non è così. Si stanno rindracciando personalità giorno per giorno di cittadine e cittadini che si sono sacrificati e che hanno testimoniato la loro idealità, la loro presenza. Ma c'è anche un altro elemento, secondo me, che è messo sempre in rilievo, come appunto si sta facendo da tempo, che non è stata una lotta comunque di una sola parte, di una minoranza. Noi stiamo mettendo in evidenza episodi, basterebbe quello delle quattro giornate di Napoli, dove, secondo qualcuno, c'è stata una turma di scugnizzi comunisti che hanno cacciato i tedeschi, non credo che sia così. Quindi anche conoscere la storia per smentire queste letture che vengono fatte in maniera strumentale, ma gli episodi sono tanti, gli episodi di resistenza dei soldati che non hanno voluto obbedire, sono finiti trucidati, dei soldati che non hanno giurato alla Repubblica di Savo e sono finiti in campo di concentramento. Ormai vi conosciamo, abbiamo ancora testimoni di queste esperienze e che stanno lì a dire che è stata veramente una lotta di popolo, un processo che ha profondamente coinvolto le popolazioni, contrariamente a quando si vuole affermare, basta pensare alla ricomposizione del corpo di liberazione, del rinato esercito italiano. Ci sono stati tanti modi di testimoniare la resistenza, non c'è stata solo la resistenza armata che è stata fondamentale, ma non c'è stato solo quello. Ecco, noi da diversi anni, nella manifestazione che abbiamo fatto pure oggi, ci fermiamo anche a Piazzale Paladucci per ricordare questo funzionario dello Stato italiano che con grandissimo coraggio ha utilizzato la sua posizione per salvare, si pensa, si calcola almeno un 5.000 ebrei utilizzando a grande rischio le risorse che aveva a disposizione per il ruolo che vi copriva. Ecco, tutto questo processo, così largo, così partecipato, ci dice e dobbiamo riaffermare che questi valori sono valori del popolo italiano, anche se oggi vengono inquinati, vengono date letture strumentali, credo, volendo abusare di chi, delle conoscenze limitate storicamente, insomma, e quindi facendo passare contenuti e letture che non hanno nessuna dignità. Prego. Ecco, naturalmente, come dire, dobbiamo cercare di scegliere un percorso, che è quello che secondo me io vi vado, come dire, a introdurre adesso, proprio rispetto a un mio pensiero, che è quello che è legato a una sorta di degrado culturale nel corso del tempo. Cioè ci troviamo storicamente di fronte a un momento storico, con la S maiuscola, quei momenti, voglio dire, che sono talmente determinanti nell'ambito della storia del mondo, che caratterizzano quel che Filippo diceva, la lotta del popolo, e quindi l'identificazione con un popolo intero, in questo caso con il popolo italiano, al punto tale che anche le produzioni culturali di quel periodo sono diventate poi segnali di una lotta per la liberazione. Io vorrei, come dire, sottolineare proprio questo aspetto con voi, la libertà, la lotta verso la libertà. Quindi al di là comunque di qualunque tipo di confronto ideale o ideologico politico, quindi non si tratta di una partita, come dire, di calcio tra due fazioni, tra due tifoserie, non si tratta neanche di un conflitto tra due, fondamentalmente tra due ideologie. Si tratta, come dire, di un lavoro comune per difendere la libertà. E allora che cosa è successo? Ecco, io questo vorrei chiedervi, cioè che cosa è successo da questo momento, come dire, fortemente storico, che in Italia ha partorito quella che è stata la Costituzione che tutti, come dire, sottolineano come la non perfetta Costituzione, ma sicuramente la più bella del mondo, cioè una carta costituzionale che è fatta di diritti e doveri sangiti sul piano del rispetto della persona e della dignità della persona. Che cosa è successo? Che cosa è successo in questa evoluzione, che insomma per tanti versi è una devoluzione, perché ci porta ad oggi, dove torniamo indietro di tanto tempo a concetti completamente, come dire, scollegati da qualunque verità storica e a concetti che mortificano di nuovo il popolo italiano. È qualcosa, voglio dire, in cui forse probabilmente tutti dovremmo interrogarci. Sì, Peppe, io vorrei partire da una piccola considerazione, ma che è una considerazione fondamentale nello stesso momento. Proprio ieri il Ministro degli Interni, Salvini, dichiara che lui, Ministro degli Interni, quindi che ha nelle mani il grimaldello di una serie di questioni, ha un Ministero particolarmente delicato, dichiara di non voler partecipare alla manifestazione del 25 di aprile. Ciascuno è libero di dire. Però lui è un Ministro, ha giurato fedeltà quando è stato eletto, diciamo così, quando è stato nominato Ministro, alla nostra Costituzione. Se la Costituzione ha un impianto antifascista, democratico, solidaristico, di confronto di tante culture, come dicevamo prima, che si fondono per il bene comune, per quel bene che l'Italia auspicava per sé dopo il secondo conflitto mondiale, in cui paesi, città erano stati rasi a sola anche dagli alleati, peraltro, che combattevano contro i nazifascisti, naturalmente. Pensiamo alle quattro giornate di Napoli e ne abbiamo anche una riprova, oltre che al meridione e poi al centro. Se un Ministro dice questo, allora noi vediamo che al vertice del nostro Paese ci sono Ministri che non rispettano la Costituzione. Ma che cosa succede? Succede che l'altro alleato del governo, che attraverso la bocca di Grillo, Casaleggio, negli anni precedenti, non è che sia espresso molto bene sul 25 aprile, su quello che ha rappresentato la lotta del popolo italiano contro il nazifascismo, tatticamente cambia e diceva che il 25 aprile, oggi, questa giornata che noi stiamo ricordando, è una giornata a cui un Ministro più rappresentativo di quel gruppo politico dovrà partecipare. E gli italiani non dicono niente, solo pochi, pochi quotidiani, addirittura ai quotidiani del mondo cattolico progressista, come l'Osservatore Romano all'Avvenire, insieme al Manifesto, insieme a qualche altro giornale, praticamente sottolineano questi elementi di povertà, di impoverimento della conoscenza. Se siamo in questa situazione, è perché in questi 60-70 anni, da quando la nostra costruzione, il primo gennaio del 1948 è entrata in vigore, qualcosa è successo. Che cosa è successo in questi anni? In questi anni noi abbiamo, fino alla metà degli anni Ottanta, governi, pentapartiti, i quadri partiti, che hanno dimostrato, nonostante che noi all'epoca, come giovani intellettuali, studenti oppure lavoratori, io sono stato un insegnante, quindi un lavoratore della scuola, pur se in quell'epoca noi contestavamo, però abbiamo potuto dare un contributo a questi partiti per un processo di riforma enorme. La sanità, la scuola, il welfare nella sua struttura, i beni patrimoniali collettivi come l'acqua, il petrolio, cioè le risorse minerali che appartenevano al popolo. E quindi i governi, i governi, i governi hanno utilizzato e valorizzato secondo gli intendimenti di un sentire collettivo. Ma nello stesso momento, un po' prima della guerra però, se in Italia abbiamo questo e anche in altri paesi come in Inghilterra, il Labur, in Francia, Mitterrand, dopo in Germania il Partito Socialista, se abbiamo questa cosa, abbiamo due grossi elementi che variano nella data. Gli accordi di Bretton Woods del 43, che praticamente sanciscono durante la guerra, gli ultimi due anni della guerra, sancisce l'ingresso della finanza all'interno di un discorso più globale. Cioè praticamente da allora la finanza comincia a fare il conto della propria possanza, della capacità di poter incidere sugli stati, incidendo sugli stati condizionandoli sull'opinione pubblica. Questo noi lo abbiamo visto, forse un segmento importante della sinistra negli anni 70… Al fine dei profitti, per questo, al fine dei profitti. Al fine dei profitti, perché solo sono… cioè questa è una linea di tendenza che verifichiamo oggi, che vede profitti solo lucrosi a questi grossi gruppi bancari, gruppi finanziari. Non dimentichiamo che questi gruppi finanziari obbediscono a due grosse dottrine economicistiche, contro cui molti chenesiani della nostra Italia, della nostro paese, tra cui Napoleoni, Federico Caffè, hanno tenacemente combattuto. Da un lato c'è il neoliberismo, la scuola americana, da cui sono derivate gran parte degli interventi di oggi. Ma anche l'anarcocapitalismo, che è una dottrina che nasce alla fine dell'Ottocento, che poi viene praticamente raccordata nella prima metà del Novecento e poi dopo il secondo conflitto mondiale, che alla base ha l'abbattimento degli stati, cioè la democrazia è odiata, è invisa alla finanza. Perché la democrazia significa una democrazia partecipata, non quella diretta che vuole casaleggio e grillo attraverso la digitazione computeristica, ma chi partecipa, come dicevamo, come diceva che accennava anche Filippo, chi partecipa alle attività quotidiane della polis, le assemblee, la candidatura, le elezioni, eccetera. E poi l'abbattimento del muro di Berlino dell'89, che per un verso è il tramortimento definitivo della filosofia anche economicistica del comunismo così come l'abbiamo conoscendo. Ma dall'altra parte è anche l'ingresso di un nuovo elemento nella finanza internazionale, che ha tutti gli interessi a condizionare l'opinione pubblica, cioè le mafie, la mafia italiana e le mafie internazionali, che approfittano di quel momento di trambusto per veicolare i loro danari illeciti nella gran parte e acquistare beni patrimoniali oppure i condizionali. Questi due elementi, la presenza massiccia della finanza e la mafia, che praticamente tramortisce la responsabilità del cittadino attraverso il logoramento psicologico, non ha il lavoro e quindi io te lo posso garantire se sei succube a questa filosofia. Questi due macroelementi hanno portato una deriva civile ed etica, che è una deriva soprattutto di civiltà culturale. Oggi, quando noi vediamo che di fronte a Lampedusa, o ad altri porti non italiani, c'è il non approdo e quindi la non applicazione del diritto internazionale marittimo, che dice che se un afrago, a prescindere da chi sia, è in pericolo di vita, tu lo porti, lo salvi e lo porti nel porto più sicuro, se noi verificiamo questa cosa, allora ci dobbiamo chiedere, ma dove stiamo arrivando? E se noi abbiamo bisogno, come cittadini, di una voce eccezionale, come quella di un Papa progressista, che attraverso la sua enciclica Laudato Si indica la strada, e addirittura oggi una ragazza, un'adolescente, Greta, che dice a noi uomini, adulti e alle classi politiche di tutto il mondo, guardate, il mondo sta morendo, il nostro pianeta sta scomparendo, allora se tutti questi elementi sono stati presenti e condizionano, allora io in parte comincio a capire perché oggi c'è questa superficialità del sentire, c'è questa assenza del cittadino rispetto alle istituzioni, che non è possibile che il cittadino lasci correre una cosa di questo genere e non si ribelli, un prete, il presidente di Libera, nel luglio dell'anno scorso, con la campagna delle magliette rosse, ricordando Aylan, quel bambino turco che si è stato, che si è annegato, che si è stato fotografato sulla spiaggia, ha chiamato il mondo laico, non il mondo confessionale cattolico, soprattutto il mondo laico, civilmente impegnato, a prendere coscienza di questo degrado di civiltà. Ma aggiungo anche un'altra cosa, su cui poi ci possiamo tornare se tu lo richiedi opportuno, una grande responsabilità di questo scivolamento nell'indifferenza, nella tarassia civile, nel menefreghismo, tanto sto bene io e che mi interessa degli altri, ce l'ha anche il mondo della intellettualità, gli intellettuali e la scuola. La scuola che dagli anni precedenti, almeno 30 anni a questa parte, a cominciare anche prima un po' di Berlinguer, nei primi governi, nei governi degli anni scorsi, ha praticamente introdotto il modello americano. Il modello americano, che all'università è stato il 3 più 2 su cui si sta riflettendo, è che nelle scuole ha praticamente introdotto il metodo di utilizzazione degli strumenti computeristici, che oggi addirittura sono davanti a tutti nella sostituzione dell'insegnante tradizionale. Allora la scuola ha una grande responsabilità e gli intellettuali che lavorano alla scuola sono stati molto fiacchi e deboli in questi ultimi anni nel reagire, perché lì c'è l'insegnamento della paideia civile, di quella socratica, di quella platonica, se posso dire anche di quella dottrina cinese, cosiddetta la rotina dei mandarini, che vede l'intellettuale a servizio della collettività, non come avanguardia specifica, ma come persona che è addettura. E oggi la scuola delle competenze ha praticamente sostituito la scuola del sapere e se non si fa un sapere particolare come lo studio del territorio, attraverso l'analisi sulla produzione economica e attraverso le valutazioni dei comportamenti civili e culturali, noi andiamo e continueremo ad andare sempre verso una realtà di deriva e quindi avremo un fiume che si secca, si asciuga mano a mano e al mare non porta a nulla. Filippo, è la stessa, come dire, identica domanda, perché comunque implica probabilmente delle sottolineature, secondo il mio modo di vedere, perfino personali, perché comunque c'è un'azione che deve essere propositiva rispetto a dei cambiamenti che sono attualmente, attualmente, a mio avviso, necessarie. Io parto dall'ultima affermazione di Franco sulla trasformazione che c'è stata del ruolo della scuola nella nostra società, che però ha una corresponsabilità di tutti quanti noi, perché di fronte al fatto che non era più possibile, per le circostanze che pure sono state dette, distribuire il surplus di ricchezza, tutti quanti ci siamo fatti prendere, io faccio mia colpa pure anche come genitore, ci siamo fatti prendere da questa idea della scuola della competenza, pensando che acquisire competenze e acquisire competenze tecniche desse garanzia per quanto riguarda il futuro dei nostri giovani. Nonostante, dicessimo tutti quanti, che poi la capacità di analisi, la capacità di adattamento, la capacità di progettare, era la vera risposta che potevamo dare rispetto alle trasformazioni che erano in atto, soprattutto a partire dai fenomeni a cui faceva riferimento Franco e dalla idea purtroppo che è circolata di poter governare la globalizzazione. E noi dobbiamo cominciare da lì ad analizzare che cosa è cambiato nel mondo, perché quello che è cambiato nella nostra società non è solo nella nostra società, è un cambiamento globale, è un cambiamento complessivo, dove questo fenomeno che pensavamo ma non siamo stati capaci di poter utilizzare a nostro favore per aumentare la democrazia, per aumentare la circolazione delle idee, insomma tutti gli aspetti positivi, e invece ci ha preso la mano e ha diffuso la condizione di precarietà a favore di pochi privilegiati, perché questa è la verità, lo diciamo tutti quanti noi, c'è questo fenomeno che viene denunziato, ma dobbiamo trovare le risposte dell'arricchimento sempre maggiore di pochi e l'impoverimento sempre maggiore di tanti. Rispetto a questo il lavoro da fare è questo qui, quello di lavorare culturalmente per arrivare alla responsabilizzazione. Io l'altro giorno incontravo un gruppo di giovani per un progetto con un'associazione con il Movimento Consumatori, un progetto, il terzo che noi cerchiamo di realizzare nella scuola, partendo dal compito specifico di questa associazione, che è quella da tutela dei consumatori, che può sembrare meccanicistico, ma non lo è, perché il lavoro che invece cerchiamo di fare è quello di aumentare la capacità di conoscenza del processo di produzione del bene e dell'uso di questo bene, non per accaparrarlo, non per averne tanto inutilmente, ma per un uso giusto e per sapere come arriva a noi. Questo significa andare a vedere le realtà del campo di Pomodoro, della miniera di combattere, tutte le manifestazioni più evidenti di quello che è accaduto nel mondo, per dare una risposta a questi processi, che non sta naturalmente nella capacità di cambiare il mondo di ognuno di noi, ma di avere atteggiamenti responsabili, comportamenti responsabili, che facciano delle scelte che siano un contrasto reale a questo predominio di un certo tipo di interessi economici. Quindi è un lavoro difficile, è un lavoro che bisogna riprendere tra le persone, perché noi oggi ci meravigliamo, ci stupiamo, del fatto che rispetto a processi di così alto valore ideale, come quello della liberazione e della resistenza, come sia possibile oggi, credo che molti se lo chiedano, assistere senza che ci sia una reazione di massa all'attacco delle nostre istituzioni, all'attacco sostanziale, insomma, non proclamato, non col manifesto, ma il tentativo continuo di sminuirle, di eroverle, di cambiare il disegno istituzionale che i padri costituenti sono stati capaci di mettere sulla carta. Non solo i diritti, ma anche il fatto come questi diritti, nel rispetto della personalità, della individualità di ognuno, potessero essere garantiti. Ecco, questo viene attaccato continuamente, non c'è una reazione sufficiente, perché non c'è conoscenza sufficiente, allora la scuola, l'intervento sociale, quello che Franco fa con Libera, con questi presidi nella società di difesa di questi valori, e di queste istituzioni. Non è semplice, non è semplice perché prevale appunto quel sentimento, il particolare, il... ma me che me l'ha importo, insomma, consentitemi l'espressione, e purtroppo le cose vanno così. Franco, io stavo pensando, mentre voi, insomma, come vi esprimevate un percorso, che è quello di un mondo che sta, io ve lo dico in termini senza, come dire, senza girarci attorno, un mondo che sta producendo un fallimento abbastanza forte, totale, basta pensare che ci troviamo di fronte a una classe dirigente complessiva, mondiale, che ha proprio, manco a farla apposta, è privo sia di quelle competenze, no, che erano nell'abito della scuola, ed è privo di sapere, cioè i punti di riferimento delle classi dirigenti dei vari paesi, no, dei vari settori, non ti offrono un modello di ideale, come dire, un qualcosa, ecco, nel passato un faro di riferimento, un meccanismo di attenzione, una luce, no, riuscivi comunque a percepirla rispetto poi alle posizioni proprie, ideali e culturali, no. Oggi è tutto molto difficile, perché quella globalizzazione è, come dire, è una specie di globalizzazione nel basso, no, ha livellato tutto, ma ha livellato tutto rispetto alla prigionia, secondo il mio modo di vedere, di quel degrado culturale, che è in forte stato di avanzamento. Le vostre idee rispetto a questa cosa? Sì, dunque, tu hai messo, hai posto una questione centrale oggi, no, di come la politica oggi possa fruire di una classe dirigente competente, preparata e adusa alla vita politica. La mia generazione, la nostra generazione, posso dire, se mi permettete, è stata educata secondo quel principio che scolasticamente, io professionalmente, quando parlavo ai ragazzi, dicevo, un principio socratico, platonico, cioè quello per il quale un giovane viene educato, nell'antica Grecia viene educato dallo Stato, da Atene, educava i giovani e poi a 50 anni, così molto complessivamente, venivano dedicati, venivano spinti a fare la politica. marxianamente si parla di intellettualità che fungerebbe da volano per una affabetizzazione completa della classe lavoratrice in generale, la classe, quello che noi dicevamo, il proletariato, il mondo femminile nella complessiva sua rete di dipendenza, più che di sudditanza, rispetto al maschio, rispetto all'economia che è maschilista, rispetto al denaro che altro che maschilismo è diabolico, diciamo, nelle sue dinamiche. Questo non c'è più, questo non c'è più perché, lo dicevamo prima, non c'è più perché al denaro che oggi ha vinto questo confronto, ma non è una vittoria conclusiva come la filosofia, come la politica, come l'esegesi politica americana, nordamericana, vorrebbe farci intendere. Cioè ormai il capitale ha vinto, non c'è un mondo migliore se non quello occidentale, quello che è il denaro e il capitalismo hanno dato fino adesso. Questo è falso perché questa concezione nasconde un trabocchetto infernale. come a dire, sono state sconfitte tutte le utopie, tutte le ideologie, poi le utopie, per cui non esistono più. E no, questo è un falso, è un falso ideologico, come quel fatto che l'unica, cioè la pretesa che l'unica ideologia che la faccia da padrone è quella del denaro, è quella del profitto, è quella della disumanizzazione dei rapporti internazionale, intersociale e interpersonale. Questo è avvenuto chiaramente attraverso una serie di complicità e le complicità, se noi pensiamo per esempio alla classe dirigente fino alla metà degli anni Ottanta, vediamo una classe dirigente che è attenta all'uelfar, cioè è attenta alle richieste dei deboli, alle condizioni anche della povertà, delle riforme che dovevano essere fatte. Da allora, da quando è stata tramortita e cancellata la scala mobile, quindi stiamo in tutta la seconda metà degli anni Ottanta ad oggi, abbiamo una classe dirigente che non viene più né dalla scuola, né da scuola di partiti che non esistono, né da una scuola associativa che può essere legata al mondo cattolico, al mondo dei non credenti, al mondo liberale, una classe dirigente azzerata e un darsi alla politica senza una preparazione che sia fatta di un lento cammino al fianco di chi è adulto, ti fa vedere come si amministra, come si fa politica, ma soprattutto che cosa si intende per attività politica. La politica ce l'hanno inteso fino a un certo punto i nostri maestri, che poi taluni l'hanno tradita questa posizione, la politica è un atto di volontariato che il cittadino offre alla collettività lasciando il suo lavoro momentaneo o che è il suo lavoro di vita, si dedica alla polis, finiti i 5 anni torna a lavorare nel suo lavoro e dà ad altri la possibilità di poter amministrare lo Stato. Questo non c'è più già dalla fine degli anni Ottanta, l'attività politica è un mercimonio, è un condizionamento mafioso, c'è lo scambio di voti, lo scambio di favori e allora noi abbiamo ministri che vanno a 30 anni a gestire la nazione italiana, 32 anni italiane, che non vengono da una scuola politica, che sono stati prelevati da interessi superiori alle loro pretese di imporsi. Basti pensare al complesso disegno che taluni dei movimenti che oggi governano hanno inteso offrire al popolo italiano. Il popolo italiano era letteralmente distrutto dalla povertà, lo diceva Filippo, dalla mondializzazione delle merce del lavoro, la schiavitù nel mondo del lavoro c'è stato con l'abbattimento dell'articolo 18 eccetera, ma qui subentrano le responsabilità. Le responsabilità sono di questo ceto politico che non viene da un'esperienza che parta dal presupposto che la politica è servizio, non può essere espressione di un'attività professionale e se questo non c'è, allora il primo elemento di democrazia salta. Un altro elemento di democrazia che è saltato è in buona sostanza determinato dai mass media. I mass media hanno dato, da quando Berlusconi è entrato in politica, modestamente prima di lui, ma da dopo, da quando lui è entrato in politica, i mass media hanno offerto al pubblico italiano e internazionale per quanto si attiene alla storia degli altri paesi un mondo talmente edulcorato, un mondo talmente inesistente che esiste solo sulla televisione. Non c'è una pubblicità che guardi ai bassi fondi delle città, che guardi alla sofferenza dei cittadini, degli ultimi, alle malattie che sono cogenti nell'esperienza della vita della gente. Non c'è niente di questo. E allora la gente è stata educata al vuoto, c'è la vacuità più completa e si accetta tutto. Si accetta la chiusura dei porti, si accetta lo schiavismo del job act, si accetta una competizione impari che porta i nostri figli e i nostri giovani fuori dal nostro territorio. Allora come si fa a recuperare un minimo? È molto difficile, ha ragione lui, è molto difficile. La difficoltà però può essere superata lentamente se noi le buone prassi che esistono nella realtà quotidiana le valorizziamo, le facciamo conoscere, perché c'è tanta gente onestamente predisposta, culturalmente preparata a dare una mano a salvare l'Italia dalle macerie in cui è caduta, dalla distruzione della democrazia, perché in Italia non c'è la democrazia, nessuno di noi può scegliere più il proprio candidato, perché altri lo hanno scelto per noi e spingono questa filosofia apicale più del 50% a non andare a votare, non perché la gente sia diventata, diciamo così, apolitica, è talmente sfiduciata e talmente prigioniera della propria ingiusta condizione di sofferenza che fa bene, fa piacere al potere politico, al potere economico tenerla così. Allora ecco la grande importanza del 25 aprile di oggi, cioè i nostri padri hanno combattuto, sono morti, quanti giovani sono morti per un ideale. Ora non dico che dobbiamo andare a cercarci la morte oggi, ma dobbiamo dire che quel senso di responsabilità di cui parla Filippo deve tornare, ma per farlo tornare vivido dobbiamo dare degli esempi che probabilmente noi non abbiamo più la forza di poter offrire, ma già la nostra presenza, mi permetto di dire una cosa anche di noi, la nostra presenza qui testimonia, che noi non abbiamo abbassato la guardia, che noi pur sconfitti dalla storia, rispetto agli ideali che ognuno di noi sono diversi, il cammino è uguale, abbiamo molti punti in comune con Filippo, però il traguardo a cui noi guardavamo e io guardo ancora è un traguardo che magari può essere diverso, diverso nei colori, diverso nell'impostazione diciamo così prima filosofica, prima teorica e poi nell'applicazione, ma noi cerchiamo uguale oggi un cammino che è quello di restituire alla Costituzione la sua dignità e di dire che noi siamo tutti uguali, che gli articoli della Costituzione, tutti gli articoli della prima parte sono stati trombati e vengono completamente disattesi con la responsabilità di tutta la classe dirigente che ci sta oggi in Parlamento, di aver praticamente attaccato la Costituzione nella seconda parte, vale a dire non più una parte responsabilmente vicina, auguralmente sempre vicina al cittadino, ma nelle mani di piccoli gruppi, quindi la responsabilità è nostra, ma il fatto che noi siamo qui fa vedere come un'altra faccia di responsabilità sia chiarissima, se responsabili di una classe dirigente sono la gran parte perché non hanno il sapere, non hanno gli strumenti del sapere per capire la loro sudditanza, la loro diciamo sia marginazione, dall'altra parte alcuni e molti di noi, della nostra generazione, responsabilmente ancora sono presenti sul terreno e sul confronto e sulle lotte. Filippo, tocca a te, cioè naturalmente resta come dire questo percorso che abbiamo stabilito, quindi se vuoi aggiungere delle cose che ha detto Franco, io ti butto lì anche quest'altro punto di riflessione, è che stranamente, ma neanche tanto stranamente voglio dire, i problemi tutti i problemi, tutti i problemi, perfino come dire quei problemi che sembra siano portati dai migranti, che sembrano siano portati dai poveri, tutte quelle dimensioni di criticità molto forti diventano punto di forza della classe dirigente attuale, io la chiamerei classe dominante, nel senso che oramai è diventato tutto altro di quello che diceva Franco prima, cioè il senso dello spirito della partecipazione all'interno della cosa pubblica, della gestione, dell'amministrazione della cosa pubblica, è diventato quello che è un percorso neanche tanto di professione voglio dire, ma proprio di dominio secondo il mio modo di potere, anche lì con l'attenzione al profitto e a quello che è il potere, che non è solo economico insomma ma è tanto altro ancora, allora ecco insomma io vedevo come dire la crescita dei problemi, la dimensione della problematica come una specie di sponda a che la classe dirigente insomma come dire diventi punto di ripartenza continua, come ti posso dire, cioè stranamente il fatto di chiudere i porti per esempio, che può essere un discorso dal punto di vista perfino morale, diventa un'appropriazione per ripartire e per affermare una propria dimensione ideale, ideologica, ecco se vogliamo, che è quella, insomma senza quelle competenze e senza quel sapere tra l'altro. Ma per la classe dominante, come dobbiamo dire, in questo momento questi punti di criticità della società, questi punti di sofferenza, di sofferenza in cui molti stanno, diventano lo strumento per un meccanismo di produzione di un consenso labile, di un consenso che non si fonda su una capacità reale di dare risposta a questi problemi. E per l'altra parte, come dire, sono anche la possibilità per cominciare a ricostruire partendo proprio da queste realtà con la capacità di proposta, con la capacità di proporsi. Io voglio dare un elemento diciamo di speranza puramente alla coscienza della difficoltà, come dicevamo prima, perché poi in questo panorama che abbiamo descritto purtroppo non confortante, anche mondiale, e poi però ci sono dei momenti in cui la capacità di reazione c'è. Anche per esempio nelle elezioni per esempio degli Stati Uniti, quando, come dire, il trumpismo sembrava ormai dominante assoluto e poi vengono fuori presenze nuove, presenze che si rifanno anche diciamo a analisi della società che sembravano morte ormai, molte si sono dichiarate socialisti per esempio in questa realtà e riescono anche a vincere, anche a imporsi. Quindi la possibilità pure di riannodare un dialogo, una comunicazione virtuosa con la popolazione, i fatti dimostrano che anche c'è. Nelle difficoltà enormi, noi non ne abbiamo accennato, ma Franco diceva anche io, insomma, questa necessità di conoscenza, di ripristinare i canali di conoscenza, di dialogo con le persone, soprattutto di ristabilire il sapere, insomma. Ecco, ma se non la sapienza è molto difficile, è difficile dagli strumenti nuovi di comunicazione che ci sono, io sono sempre molto preoccupato da questo, sono un uomo del Novecento sicuramente, però non sento di appartenere al passato se, come poi sta emergendo, proprio in questi ultimi giorni, se do un allarme su tutto questo, se viene fuori come sempre di più, in molte realtà, come poi l'orientamento del popolo, delle persone, viene fortemente condizionato da strumenti non corretti di orientamento. Quindi ho tutta la consapevolezza della difficoltà. In primis, naturalmente, c'è la testimonianza, il rappresentare realtà diverse, insomma, questo è fondamentale, e poi però c'è questa difficoltà di arrivare in un mondo mediatico, come quello che diceva Franco, che in realtà non esiste. Ecco, giorni e giorni in cui si discute della dichiarazione del tale ministro, della risposta di quell'altro, e si fanno le valutazioni su chi è più bravo, chi sta prima in classifica, sul confezionare questi messaggi ispirati alla cattiveria, ispirati alla denigrazione dell'altro, e chi ha i fans maggiori in questo sistema di comunicazione. Ci confrontiamo con un sovrapotere, perché c'è quello economico, ma c'è anche di questi grandi canali mediatici, questa è un'altra realtà dei nostri tempi, ed è un altro campo in cui c'è necessità di una testimonianza, è un altro campo dove per esempio la presenza, ma non lo faccio per piageria, la presenza ancora, la sopravvivenza ancora nella nostra realtà, di realtà come questa, e non solo, anche altre, e non solo in tutta Italia, sono preziose, non a caso vengono attaccate, non a caso le si vuole spegnere, perché sono dei piccoli presidi rispetto a questo scenario in cui ci muoviamo. Siamo quasi alla fine, però io volevo invitarvi a una piccolissima riflessione, stranamente voglio dire nella dimensione anche comunicativa, moderna dove ci sta, moderna non sempre voglio dire, io coniugo moderno nel senso del contemporaneo, non nel senso del positivo, non sempre è positivo, però qualche livello di positività per esempio la troviamo, ed è questa soprattutto, è una nota culturale, di chiusura di questo 25 aprile della nostra riflessione. E' questa, quando vai a cercare, su internet e scrivi Bella Ciao, ti accorgi che è una canzone che è stata adottata da tantissimi popoli nel mondo, ed è una specie di grido di lotta, che viene poi messa in quasi tutte le situazioni del precariato soprattutto, ecco situazioni di precariato molto forte. Io spesso e volentieri acquisisco questa, come dire, la visione, l'ascolto di questa canzone con un grandissimo orgoglio, mi dovete abbassare questa cosa. Quindi, perché vuol dire che, come dire, quei valori che venivano richiamati dai nostri padri, per capirci, erano valori molto, molto, molto forti e molto, come dire, particolari, dal punto tale che questa azione, insomma, che era un'azione anche emotiva, voglio dire, viene di colpo presa da tanti popoli in lotta, no? Da tanti nuclei, no? Che comunque vogliono, stanno lottando ancora per la libertà, no? Nel senso dell'affrangamento da tantissime cose. Ma vorrei, come dire, concludere questo nostro incontro con una riflessione complessiva su quello che è proprio, come dire, stato il valore fondante, no? Di questa cosa bellissima che poi si chiude con l'atto della libertà. Quindi, ecco, Filippo ha ricordato l'esperienza americana, no? Sanders, che ha i suoi amici giovanissimi, no? Ecco, oppure pensiamo per esempio alla gioventù che partecipa alle giornate mondiali della pace fatte da Papa Francesco, oppure ai grandi incontri di artisti dove tanti ragazzi, no? Inneggiano alla libertà, alla lotta per la giustizia e nell'ultimo anno abbiamo potuto ascoltare la bella ciao cantata da milioni e milioni di persone di altre lingue rispetto e di altra cultura rispetto alla cultura nostra italiana. Questo sta a significare quello che un po' prima accennavo, ma che non abbiamo potuto approfondire per un fatto di tempo, cioè la questione delle buone prassi. Oggi la televisione e i mass media non sottolineano la buona prassi, cioè un bel esempio. Se noi accendiamo la televisione, ascoltiamo la radio, ci sono sempre notizie brutte, tanto che, oppure c'è il gossip più, ecco, più stravagante, più aggressivo, oppure c'è l'insunzaggine, cioè l'assenza dei grandi studiosi al dibattito. Però avvertiamo anche che dietro il sipario e alla base, nella società civile, ci sono tanti giovani che sperano, guardano a un mondo molto diverso. Quanti giovani a Catania, a Lampedusa vanno per fare volontariato a fianco dei migranti e adesso, alle Tremiti, abbiamo sentito il sindaco di San Nicò, come si chiama l'isola, San Domino, che si è messo a disposizione quei 17 migranti che sono confluiti lì, nelle isole Tremiti. Voglio dire che la società civile esprime delle positività che sono o ignorante, oppure messe da parte da chi detiene il potere economico e che non ha nessun interesse. Si tratta di lavorare col tempo. Io personalmente non ho fiducia che gli attuali mass media abbiano la capacità di modificare il loro asset culturale, programmatico, eccetera. Però sono convinto che nella società civile c'è della buona semente. Sono anche delle buone cose? Certo, ci sono. E io guardo la mia presenza qui oggi, risponde proprio a questa logica, a questa prospettiva. Non ci siamo mai lasciati, io e quanti guardiamo o con Libra o nelle altre associazioni, a un mondo migliore. Mai ci siamo lasciati condizionare dalle sconfitte oppure da particolari condizioni ipoculturali e ipolibertarie che esistono adesso. Il territorio quanto è amato, il Molise quanto è amato e abbiamo una classe dirigente che non lo ama. Arriverà il momento in cui chi ama il Molise veramente, i giovani, i giovani, saranno classe dirigente, non c'è lo politico. Filippo, a te. Ma io quando accennavo a questi segnali che magari sono intermittenti, vengono a dare un posto, poi vengono a dare un altro, volevo dire proprio questo, insomma, che la coscienza sembra addormentata, ma non è così. Non è così, per esempio, i segnali sono tanti. Abbiamo visto in uno dei paesi a cui guardavano i sovranisti una giovane donna ha vinto le elezioni. Quindi c'è la possibilità. Naturalmente dipende anche dalla capacità di intervento, dalla capacità di suscitare emozioni, dalla capacità di arrivare alla gente. Questo è uno dei condizionamenti maggiori, ma quello a cui lui facevi vicenda, questo fatto di questo canto che viene sorprendentemente condiviso anche da persone di un'altra lingua, di un altro paese, vuol dire che un sentimento fondamentale umano non si può sperire. Certo, sì. Che ancora mantiene come un filo, no? Che ti collega a me. O almeno non ci riesco. È chiaro. Siamo alla fine. Allora, la ultima vostra considerazione, nel saluto ai nostri telespettatori, la considerazione di questa chiusura, di questo nostro incontro che è centrato sul 25 aprile. Franco. Io vorrei dire a chi ci ascolta che il mio primo innamoramento è stato per la Costituzione. Io da ragazzo, da giovane, subito, grazie a alcuni maestri della Scuola Socialista e poi che noi abbiamo avuto in comune e poi dopo abbiamo un po' separate le nostre strade e ho avuto questo insegnamento alla Carta Costituzionale come elemento di grande concretezza, ma che guarda anche alla prospettiva. La concretezza è che una fusione di culture diverse è stata possibile. La prospettiva è la solidarietà che non dobbiamo mai perdere. Chi ha di più deve dare a chi non ha. E che significa questo? Significa che non so che il pagamento delle tasse deve essere proporzionale a quello che si guadagna. E dobbiamo arrivare al punto in cui chi ha veramente di più se ne libera, perché a che serve avere di più ed essere infelice? Io penso che, a considerazione su questo incontro con me abbiamo avuto, abbiamo cercato con onestà di dire, di parlare delle prospettive, della prospettiva positiva, anche delle difficoltà, anche quelle che, senza nascondere, quelle che dobbiamo affrontare. Io penso che questo sia un taglio giusto, perché quello che soprattutto dobbiamo dire è che non c'è niente di scontato, non c'è niente di acquisito per sempre, c'è la necessità di conoscere, io questo lo sottolineo sempre con molta forza, c'è la necessità di non accontentarsi di quello che è il dibattito che si impone e che è caratterizzato, come dicevo Pippa, dalla raguità, purtroppo molto molto spesso, di andare alla fonte, ci deve essere nell'atteggiamento di responsabilità questo sforzo dei cittadini di approfondire la loro conoscenza, la Costituzione, ma andiamo un po' anche a studiare, perché così ci accorgiamo come questa viene erosa con i meccanismi di cui diceva all'inizio, con questa delegittimazione delle istituzioni che sono a garanzia di tutti quanti noi. Questo è uno dei processi più pericolosi che sono in atto e per resistere bisogna sapere che non ci sono le caste e i nuovi politici, ci sono le competenze e ci sono le no. non le competenze, purtroppo. E allora bisogna intervenire direttamente. Io ricordo sempre una cosa, se mi consenti, in ultimo. Come atteggiamento giusto rispetto anche alle istituzioni, secondo me. Ricordo che Marco Pannella, dopo Tangendopoli, tutte le mattine convocava i deputati alle nove di mattina per difendere il Parlamento, nonostante il discredito che si era diffuso, perché diceva questa è l'unica cosa che voi avete. Certo, sì. Ci fermiamo qua. Grazie per aver ricordato, come dire, se ce ne fosse bisogno, l'importanza di una meditazione, di una presenza, di una partecipazione per questo 25 aprile. È un momento storico che ci appartiene, ma è un momento storico che parla di libertà e credo che questo sia fondamentale per ogni uomo di questo nostro pianeta. Grazie a Franco Novelli, grazie a Filippo Poneggi e naturalmente grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie a tutti.